buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 20 agosto 2024 ci stiamo lasciando alle spalle la perturbazione che ha caratterizzato lo scorso fine settimana con qualche pioggerellina e dobbiamo dire un po di disastro l'ha fatto a Pesaro poi vedremo che cosa è accaduto nella viabilità pesarese in modo particolare nella zona tra Santa Maria delle Fabrice e Villa Caprile bene ma prima passiamo come sempre attraverso dal manacco del giorno e vediamo che si festeggia oggi eccolo il santo di oggi è San Pio X San Pio X Giuseppe Sarto patriarca di Venezia fu eletto papa dopo la morte di Leone XIII nel 1903 era l'inizio del secolo un inizio di belle speranze che poi porterà alla bella epoca ma prima ancora alla tragedia della prima guerra mondiale ebbene papa Sarto fece molte riforme nel diritto canonico e per una curiosità fu colui che anticipò l'età della prima comunione a sette anni prima la si faceva molto molto più tardi ma fu santificato per la sua vocazione fu il papa della povertà e della carità e soprattutto soffrì perché pensava aveva già previsto quello che sarebbe accaduto nel 1914 e il 1914 fu anche l'anno della sua morte vediamo ora le previsioni del tempo abbiamo detto che il tempo è in miglioramento con sole prevalente in gran parte della regione le temperature sono in graduale aumento rispetto un po il fresco dei giorni scorsi i venti sono deboli moderati le temperature sono tra i venti e i 30 gradi insomma fresco così è per modo di dire perché abbiamo avuto dei giorni veramente molto molto casti molto molto caldi ebbene sulle coste i venti spiereranno da nord nord ovest nell'entroterra da nord nord est e il sole il sole è sorto alle 6 e 17 tramonterà alle 20 04 e allora vediamo le notizie del giorno a partire oggi dal resto del carlino che apre con gli scavi di piazza andrea costa appello o no i lavori qui proseguono ovviamente devono proseguire però c'è una diversità di vedute da chi dice di fare in fretta e invece chi dice di proseguire fino a che tutta la zona non sia adeguatamente controllata indagata ebbene c'è stato anche una reazione da parte dell'amministrazione comunale ieri l'assessore ilari ha incontrato anche l'archeologo gabriele baldelli ilari incontra chi invitava alla calma ma dice se la sopraintendenza avesse segnalato cose davvero rilevanti avremmo bloccato tutto il problema è che non si è andati a fondo per vedere se c'erano veramente cose rilevanti ma ci si è fermati a parte qualche sporadico sondaggio ma si è fermato a quote veramente è molto molto poco approfondita ecco questo voglio dire e quindi non è che si è potuto veramente indagare quello che c'è sotto piazza Andrea Costa sono state riportate da luce comunque 4 o 5 sepolture dopo la sepoltura che ha fatto veramente notizia della mamma con il bambino che stringeva al petto di cui qui vediamo una fotografia gli scheletri che sono stati trovati sono stati custoditi in cassette per essere trasferiti quando arriverà l'ordine della sopraintendenza nel cimitero di Rosciano individuato dall'amministrazione comunale per accogliere i resti umani oltre alle sepolture sarebbero emerse strutture di epoca romana è un edificio a forma absidale questo un po accentra l'attenzione da parte degli esperti perché insomma un abside non si trova nelle case private generalmente pare difficile invece secondo il resto del calino che si possono recuperare i resti del cardo romano probabilmente distrutto agli inizi del novecento durante la sistemazione dell'impianto fognario di questo parere non sembra che sia l'archeologo Gabriele Baldelli che ha iniziato con il suo appello tutto il movimento che si è creato in città per salvaguardare questa area archeologica di grande importanza studiarla in modo opportuno il quale dice se andate un pochino più a fondo è probabile che il cardo riemerga e riemergendo il cardo riemerge anche un punto focale della mappa della fano archeologica perché così si può veramente individuare l'incrocio tra il cardo e il documano e quindi anche la posizione esatta del foro ebbene lasciamo decantare questo argomento che ovviamente credo che si riprenderà nei prossimi giorni perché il comitato non desiste il comitato che vuole approfondire gli scavi di piazza Andrea Costa ma vediamo che c'è anche una presa di posizione delle associazioni di categoria che ovviamente difendono i commercianti in questo caso il loro compito e dicono che i commercianti stanno soffrendo bisogna fare presto chiudere tutto insomma ripristinare l'area di mercato come era prima anzi con ovviamente le migliorie che saranno fatte dopo la fine del progetto due chilometri di bancarelle in città arriva la fiera di San Bartolomeo l'evento dal 24 al 26 agosto già assegnati 131 posti su 170 e c'è la novità per riqualificarlo nasce anche il mercatino dell'artigianato ebbene Viale Dante Lighieri resta tutto libero quest'anno non ci sono bancarelli in Viale Dante Lighieri bancarelli che invece saranno su Viale Adriatico dall'ex anfiteatro Rasta in Sassonia fino a Largo Seneca del Lido di Fano quindi si oltrepassa il ponticello sul porto canale oltre due chilometri di passeggiata tra le bancarelle per i quali sono già stati assegnati 131 posti fissi a cui si aggiungeranno i commercianti giornalieri che si presenteranno il primo giorno della fiera ci sono dei posti liberi che arriva primo macina insomma l'obiettivo è quello di completare i 170 stalli complessivamente messi a disposizione dei 250 pre-covid precedenti alla crisi del settore insomma sono un po' diminuiti però la fiera di San Bartolomeo rimane sempre uno degli eventi commerciali più importanti della città ma non solo commerciali e quindi economico ma anche turistico perché insomma la fiera attrae attrae i fanesi attrae i turisti è un modo di passeggiare tra mille curiosità e fermarsi poi di fronte agli stand che mostrano cose veramente curiose ma anche a prezzo accessibile ad una situazione economica che insomma giova sia ai venditori che ai compratori la vera novità di quest'anno sarà il mercatino artigianale una sezione dedicata che troverà spazio nella zona tra Viale Simonetti e Viale Cairoli quindi sarà una zona completamente nuova quest'anno vediamo le altre notizie pubblicate dal resto del Carlino che annuncia la riapertura della piscina nuotiamo la nuova piscina realizzata dalla fondazione Carifano Carifano nei pressi dall'aeroporto il centro inaugurato a febbraio ve lo ricordate con una cerimonia molto bella suggestiva riavvia le attività e punta ad aumentare le iscrizioni ma ci servono più parcheggi e una viabilità migliore servono più parcheggi ovviamente questo vuol dire che il centro nuotiamo attira molta gente bisogna raggiungerlo in macchina perché ancora in bicicletta è difficile raggiungerlo anche se in programma la realizzazione della pista ciclabile che dovrebbe arrivare fino a Vellocchi e quello della viabilità migliore dato che la via su cui prospetta il centro nuotiamo è una via molto molto trafficata il traffico corre anche ad alta velocità e quindi è pericoloso comunque mettetevi una nota in agenda lunedì riapre, nuotiamo ciclabile ferrociclo sul Fan Urbino anche il resto del Carlino interviene su questa proposta fatta dall'associazione che promuove l'uso della bicicletta la quale dice che insomma ma anche insomma qui c'è anche l'associazione della ciclovia del Metauro perché sono due associazioni che perseguono un po' lo stesso fine quello della mobilità dolce, quello della mobilità ciclistica ebbene il ferrociclo è un mezzo per così viaggiare nella ferrovia e magari ripristinarla per quanto si può il tratto tra Fano e Urbino vediamo Pergola a Pergola sboccia l'arte con Blooming Blooming è un festival è un festival che tra digitale, musica ed elettronica attira molte molte persone in modo particolare i giovani si tratta dell'ottava edizione del festival che si svolgerà a Pergola tra il 6 e il 7 settembre prossimo e tutto quanto è anche nel programma di Pesaro 2024 e porterà anche ospiti internazionali è un'iniziativa molto originale che si tiene appunto a Pergola dedicata alla promozione delle espressioni artistiche digitali e della musica e delle arti elettroniche l'acevole appuntamento il 6 e 7 settembre vediamo anche una bella espressione di fede quella che si preannuncia per il pellegrinaggio da Cartoceto a Spicello un pellegrinaggio che verrà fatto di notte sono 17 chilometri una distanza da percorrere nel fresco della notte sperando ovviamente nel bel tempo si tratta della 32esima edizione ed ogni edizione è stata molto molto affollata e verrà tra venerdì e sabato mancano ormai pochi giorni e già ci si prepara con questa organizzazione si passa una notte svegli una notte dove si guarda dentro l'anima e si guarda anche fuori perché poi il paesaggio e l'introspezione personale in questo momento combaciano ed è veramente una bella esperienza passiamo ad Urbino passiamo ad Urbino dove c'è una polemica vediamo qui anche la foto del sindaco Maurizio Gambini all'opposizione piaceva la mostra su Raffaello mi spiegano perché ora cambiano idea il sindaco Gambini ricostruisce la vicenda nel 2020 c'era entusiasmo per una esposizione simile voluta da Luca Ceriscioli del Partito Democratico e insomma nel dibattito polemico che sorge tra maggioranza e opposizione a Urbino c'è la mostra quella che ha riproposto tutte le riproduzioni digitali in alta definizione delle opere di Raffaello di Urbino non erano quadri originali ma era un'antologica molto molto istruttiva molto didattica e anche molto bella da guardarsi appunto delle opere di Raffaello passiamo ad Urbania dove vediamo una intervista fatta all'assessora Sonia Toccaceli neossessore elevori pubblici e al bilancio e una delle iniziative prioritarie che sta per assumere l'assessore è quella del PEBA ovvero del piano per il piano delle eliminazioni delle barriere architettoniche si tratta ha dichiarato di uno strumento di monitoraggio che rileva e classifica le barriere architettoniche presenti in edifici pubblici o spazi pubblici urbani come le strade le piazze i parchi i giardini ebbene il PEBA è una delle iniziative che ogni comune dovrebbe adottare in via prioritaria perché prima di tutto permette anche ai disabili di muoversi liberamente e poi un senso di civiltà è un segno di civiltà è un segno di amore per coloro che sono più fragili rispetto alla normalità ancora veleni nel torrente e questo è veramente un atto che è esecrabile che è stato compiuto nell'impianto ittico regionale di Cantiano addio agli esemplari riproduttori di trote qui c'è stato un versamento di un liquido velenoso in questo centro ittico che ha procurato la morte di tutti i pesci e li vediamo qui stesi su questo rialzo a bordo piscina e c'è l'operatore che sconcertato sta per appunto bonificare lo specchio acqueo morì a di pesci nell'impianto ittico regionale di Cantiano a segnalarlo è il cantianese Luigi Soriani presidente regionale della federazione italiana dei pesca sportivi veniamo anche la pagina di Pesaro dove il giornale Corriere il resto e Calino apre con i danni che ha procurato l'ultimo fortunale pioggia forte danni e fango ditte case garage allagati statale adriatica chiusa ogni volta la stessa sciagura ebbene le precipitazioni che si sono verificate nella notte hanno raggiunto 112 millimetri hanno provocato lo smottamento sul colle vicino a Villa Caprile il colle San Bartolo uno dei residenti a maggio già successo qualcosa di simile ebbene da San Bartolo è venuta giù tutta una una quantitativo piuttosto rilevante di fango che ha invaso case scantinati ma anche la statale adriatica creando anche disagi per il traffico il fango le pale tanti garage da ripulire e anche qualche ricordo da buttare purtroppo tutto quello che era all'interno è stato mandato in briciole voglio dire perché poi il fango ha veramente rovinato tutto molti molti i danni si sapeva che sarebbe piovuto però non in quella quantità e soprattutto il maltempo che non si pensava che potesse procurare questi danni e parliamo di siccità a fianco alla pagina che riguarda i danni della pioggia c'è una pagina che riguarda invece i danni della siccità perché i due elementi i due aspetti della situazione ambientale convivono allo stesso tempo nell'entroterra impera la siccità le autobotti scaricano sempre più da 1000 a 30.000 metri cubi d'acqua pensate quanto è aumentata la richiesta d'acqua nell'entroterra il consumo nei centri dell'Apennino si è impennato da luglio ad ora la proposta della community progetto acqua creare una rete di invasi intorno ai fiumi che ricarichi le portate in periodo di secco e quello di creare degli invasi che possano costituire delle riserve d'acqua costituisce sempre una delle richieste che vengono presentate più spesso sui tavoli degli amministratori ma sembra che non si riesca a trovare nel modo nel luogo dove creare questi invasi tant'è vero che non si riescono a pulire nemmeno quelli esistenti come le dighe di tavernelle quelle del furlo ed è difficile appunto far sì che questi invasi contengono una sufficiente quantità d'acqua perché poi i detriti che si sono depositati nel fondo hanno ridotto la capacità di contenimento gli storni che problema bombardano la scuola e il cortile è già pieno di guano nella primaria Carducci c'è un appello di mamme i giochi sono diventati un disastro nessuno li pulisce più gli storni vanno a gruppi e quindi quando arrivano scaricano un po' tutto quello che hanno e il cortile si riempie di cacca vediamo qui una delle immagini significativi questi teloni bianchi che sono stati messi per proteggere i giochi sono pieni veramente di guano la puzza fortissima crea anche problemi di salute ma il comune fa scarica barile questa è un po' l'accusa che viene fatta e poi si passa in via Mazza via Mazza viene considerata terra di nessuno a Pesaro come top intrappola la protesta dei residenti ebbene la strada in via Mazza è sbarrata da circa un anno per una gru che è stata installata nella strada che serve per i lavori alla Oliveriana ma anche impalcature autoparcheggiate bloccano le ambulanze che non riescono a passare perché la strada è veramente molto molto stretta a questo punto passiamo al Corriere Adriatico vediamo l'apertura Sufano dove c'è la notizia che il Comune ha rinnovato i contributi per i cosiddetti inquilini morosi incolpevoli chi sono gli inquilini morosi incolpevoli sono quelle persone che non riescono a pagare più il canone d'affitto pur avendolo pagato regolarmente prima che loro capitasse qualcosa cosa non so il licenziamento dal lavoro oppure una brutta malattia insomma un'evenienza che oggettivamente ha costretto a ridurre la loro disponibilità economica e quindi non riescono più a pagare l'affitto sono impredicato per lo sfratto a questo punto il Comune giunge in loro aiuto paga gli arretrati ovviamente ci sono dei parametri che chi fa domanda di ricevere questi contributi deve poter esibire deve rientrare appunto sui parametri del bando comunque la scadenza è stata fissata al 20 settembre quindi che in queste condizioni può segnarsi questa data perché entro questa data deve presentare domanda all'amministrazione comunale per ricevere un possibile sostegno un fatto di cronaca a fondo pagina scarica l'olio del motore in un cassonetto caccia al vando veramente un comportamento inqualificabile quello della persona che lunedì scorso in viale 12 settembre ha gettato in un cassonetto un contenitore contenente l'olio motore olio motore che è poi debordato e quindi ha invaso il cassonetto era un cassonetto che contenente contenente oggetti metallici ebbene dopo l'olio si è riversato e ha sporcato anche il marciapiede l'ASET in questo a questo riguardo è intervenuta in maniera molto molto rapida ha dovuto pulire anche il marciapiede ma non ha comunque predisposto le indagini per risalire a chi ha comportato questo danno a chi ha procurato questo danno e poi parliamo del Beato Antonio chi è il Beato Antonio? il Beato Antonio è un personaggio fanese era molto noto nel 1400 era confessore del re di Aragona ed era anche ambasciatore del Papa era Martino V ambasciatore nelle corti più importanti d'Europa quelle del re di Francia quello dell'imperatore di Germania insomma aveva un ruolo molto molto importante alla sua morte decise di ritornare nella sua città natale a Fano e Fano lo accolse con tutti gli onori fu seppellito fu inumato diciamo meglio nella chiesa di Santa Maria Nuova dove poi i fedeli gli attribuirono l'appellativo di Beato anche se Beato non era perché insomma la chiesa non l'aveva proclamato tale ma era un personaggio di riguardo ebbene fino agli anni 50 la sua salma il suo corpo era riposto sotto l'altare della chiesa di Santa Maria Nuova l'altare dedicato ad Antonio da Padova e poi hanno fatto dei lavori negli anni 50 e il suo corpo era stato trasportato trasferito nell'intercapedine che divide la chiesa dal vicino convento di Santa Maria Nuova convento che è stato poi trasformato in civile abitazione trasformato in appartamenti e allora per fare questi lavori temporaneamente tra virgolette il corpo del Beato Antonio è stato portato a Valle Remita un convento vicino a Fabriano sempre gestito dai frati minori doveva restare lì temporaneamente era il 2020 i lavori erano iniziati nel 2019 e doveva ritornare a Fano finiti i lavori i lavori sono finiti da un pezzo ma il Beato Antonio Fano ancora non è ritornato ecco perché insomma si sollecita l'amministrazione comunale a reclamare quello che è suo perché il corpo appartiene al comune di Fano e come perdere non so per esempio Pandolfo III Malatesta se fosse trasferito temporaneamente in un'altra località e poi non torna a Fano ebbene il Beato Antonio era un personaggio di riguardo non dico tanto quanto Pandolfo ma insomma gli è andato molto molto vicino e quindi un appello perché questo personaggio illustre fanese possa ritornare nella sua città dove egli ha voluto essere sepolto nuova via dante bocciata anche dai ciclisti per Forbici il progetto non soddisfa le esigenze di transito in sicurezza e a questo riguardo dobbiamo dire che insomma le polemiche su via dante alighieri continuano e poi prima di chiudere vi segnalo un altro articolo il pala saliende insomma si trasforma per contenere ancora più spettatori in vista del campionato che deve sostenere la nostra squadra di volley insomma che è stata promossa nella categoria superiore e ora si cerca di passare da 700 a 1000 posti in attesa che venga costruito il nuovo palas nella zona di Chiaruccia di Faro e questo è tutto per oggi Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle 7 e a questa sera per le notizie del giorno alle 20.30 nel Tg Occhio alla notizia di Fano TV condotto da Filippo Pucci grazie per l'ascolto e a risentirci e a risentirci a risentirci الطesia condotti per l'ascolto a risentirci e a risentirci